La nostra fedeltà non è un'altra cosa che una risposta alla fedeltà di Dio, come quel pastore che quando rientra a casa se ne accorge che gli manca una pecora e va, torna a cercare la pecora che si è perduta lì, un pastore che fa delle straordinarie, ma per amore, per fedeltà. E il nostro è un Dio che fa delle straordinarie, ma non a pagamento, gratuitamente. E la fedeltà di quel padre che è capace di salire tante volte sul terrasso per vedere se torna il figlio e non si stanca di salire, lo aspetta per fare festa. La fedeltà di Dio è festa, è gioia.